Carte del cielo e della terra è il nome della mostra dell'artista Walter Angelici che da domenica 21 ottobre fino al 2 dicembre sarà allestita nelle sale del museo della città di Rimini. In questa esposizione l'artista Anconetano incontra e traduce alcuni temi dell'ecclesiaste attraverso una sequenza grafica molto suggestiva. Quarante i quadri realizzati ad hoc cercando, come scrive Roberto Cresti nel catalogo della mostra, la realtà nella pittura, senza scrupolo di mimesi. L'approdo di Angelici è l'antico testo scritto in ebraico la cui redazione avvenne, l'opera di un autore ignoto nel IV o III secolo a.C. è avvenuto per naturale avvicinamento a soggetti e temi che già erano nel registro espressivo dell'artista. Queste opere sono eseguite su una lastra metallica pittoricamente e che poi è passata sotto un torchio e applicata, quindi quello che era la pittura sul metallo è stato poi trasportato sulla carta in una matrice che poi si perde, è madre una volta sola e poi se ne perde l'uso. Quindi una tecnica molto particolare che già dal 600 è conosciuta e che restituisce proprio anche con questa monocromia un'intensità e un richiamo alla memoria che ritengo rare. La mostra a carta del cielo e della terra è a cura di Rita Maria Stolfi Oliva che nel corso della conferenza stampa di presentazione ha raccontato la sua personale battaglia iniziata nel 2010 per portare questa esposizione nel Museo Riminese. L'assessore alla cultura Massimo Pulini ha invece precisato che dopo questa esposizione seguiranno altre mostre, in particolare in cantiere un progetto legato alle opere su carta, una biennale sul disegno dove saranno coinvolti gli spazi pubblici e privati della città.